amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive oggi facciamo una puntata sulla base appunto di alcune richieste che ci sono pervenuti ultimamente dove ci hanno fatto delle domande riguardo al cruise control regolatore di velocità cioè tanti hanno magari vetture che non sono dotate di questo sistema e ci chiedono se è possibile installare aftermarket un sistema di questo genere allora partiamo dal concetto che tecnicamente tutto è fattibile tutto è possibile poi c'è un ragionamento logico che fa propendere se fare o non fare un determinato lavoro a seconda del costo perché se mettere un cruise control non ci sono diciamo delle accessori aftermarket cruise control è un sistema che interagisce con la centrale elettronica con i sensori se c'è un cruise control adattivo con dei sensori che mantengono la distanza con la vettura che ci precede quindi non è una cosa semplice da montare aftermarket alcuni soprattutto negli Stati Uniti visto che fanno delle cose incredibili lo riescono a fare però fra il tempo e il costo per ovviare a questo sistema cioè per montarlo aftermarket onestamente non ne vale la pena quindi direi che la risposta è sul fatto di poterlo montare se la macchina non è dotata direi lascerei assolutamente perdere il funzionamento nel nello specifico è molto semplice diciamo un sistema che viene comandato a seconda delle vetture o tramite una leva o tramite dei dei tasti come appunto sulle vetture forse anche tanto per intenderci dove un attiva questo sistema e la macchina mantiene sempre una velocità costante questo è sui cruise control normali poi adesso ultimamente hanno anche upgradato il sistema introducendo questo chiamiamolo cruise control adattivo che legge la distanza come dicevo prima con la macchina che ci precede in maniera tale che in automatico se la vettura arriva diciamo nel raggio di tot metri dalla vettura che precede il sistema rallenta automaticamente la velocità della macchina quello che va fatto notare è che sicuramente un sistema di questo genere a logica a senso in percorrenza solo stradali io sconsiglio assolutamente di andare a utilizzare un sistema laddove c'è molto traffico in città assolutamente sarebbe improponibile e anche su tangenziale dove c'è come dire un afflusso di traffico consistente diventa quasi pericoloso adottare un meccanismo di guida assistita mentre in autostrada io spesso vado magari vado in sud italia per cui dovendo fare 900 km in autostrada chiaramente metto il cruise control e diventa anche più rilassante la guida però ripeto uno fa 100 150 200 km chiaramente è una questione di comodità o di rilassamento quindi viaggiando in autostrada sicuramente è il sistema più comodo e più logico per stancarsi di meno il funzionamento è molto semplice come ripeto una imposta la velocità il cruise control segna quella una volta che io gli ho dato non se la vettura sta andando a 120 km allora prende per buona quella velocità e se non vado a modificare con i tasti di più o meno la velocità mantiene sempre quella velocità poi ripeto con i tasti uno può micro aumentare o micro diminuire un chilometro alla volta la velocità per cui teoricamente uno può anche come dire variare la velocità senza schiacciare il pedale acceleratore ma unicamente lavorando o con il cursore o con i tastini di selezione più o meno poi il fatto di disattivarla lo si disattiva tramite tasto oppure molto più semplicemente molto più rapidamente proprio sfiorando il pedale del del freno automaticamente automaticamente si disabilita poi per riattivarlo ovviamente si rischiaccia sul tasto on e questa questo sistema riprenderà l'ultima velocità che era stata impostata c'è da dire che da un punto di vista di comodità sicuramente un'ottima soluzione da un punto di vista di consumi io ho fatto proprio una prova anche su determinate tratte con o senza cruise control e devo dire che con il cruise control è sicuramente più comodo però la macchina comunque consuma leggermente di più perché ovviamente appena o se c'è una piccola salita o quant'altro la macchina per mantenere quella velocità è come se io schiacciassi sul pedale acceleratore in maniera molto più cospicua che non viceversa ecco da un punto di vista di logica secondo me il cruise control la diciamo la il connubio perfetto è con un cambio automatico sicuramente con un cambio automatico diciamo anche il la scelta del rapporto di marcia viene fatto tutto automaticamente per cui il cruise control con una macchina su una macchina con cambio meccanico onestamente diventa un ibrido che ha dei limiti discutibili diciamo così quindi il cruise control secondo me funziona perfettamente e ha la sua logica con una vettura dotata di cambio automatico su questo assolutamente c'è poco da da discutere io direi che anche per questo tipo di aspetto penso di avervi dato appunto le informazioni quanto meno basico necessarie per qualunque genere di informazioni mandatemi tutte le domande che che volete io vi cercherò di rispondere per quelle che sono le mie conoscenze per qualunque altro altre informazioni mi trovate in sede come al solito domenica venerdì mi trovate in sede allo 0 2 7 3 8 3 1 7 5 per il momento è tutto un saluto alla prossima ciao